Qual è la tua sostanza? Di cosa sei fatto che milioni di strane ombre ti fanno scorta? Perché ognuno ha in quanto uno un'ombra e tu sebbene uno puoi gettare qualsiasi ombra? Mi si descriva Adone e il suo ritratto è di te una povera imitazione. Sulla guancia di Elena s'apponga ogni artificio di bellezza e tu in greca acconciatura sei dipinto nuovamente. Si parli della primavera e del raccolto dell'anno e l'una mostra solo l'ombra della tua bellezza, l'altro appare come munificenza. E noi in ogni forma benedetta riconosciamo te. In ogni grazia esteriore tu hai qualche parte ma nessuno somigli e nessuno a te per costanza del cuore.